ma sta insultando a me questo mi sta insultando a me e manca dello spacco di botte ebbene si ragazzi come avete detto dal titolo partono offese anche a sto giro prima di partire però mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel pollicione iscrivetevi al canale attivate la campanellina godetevelo tutto perchè c'è da divertirsi e buona visione 1 2 3 3 tutto ragazzi se neanche oggi l'ho rotto l'ho rotto pomberoni siamo tornati come potete vedere anche da questo nome tu nonna con un nuovo episodio del bimbo minchia su rainbow six prima provo di darvi una notizia importantissima perchè finalmente anche fratello martellos gabello eze è entrato a collaborare con instant gaming per il semplice motivo ragazzi guardate qua c'hanno dei prezzi bassissimi e mi sono detto ma perchè devo sempre spendere il doppio di quello che spendono gli altri anch'io frate voglio beccaremi i giochi a poco quindi ragazzi qui sotto in descrizione trovate il link con cui comprare i giochi potete anche fare i pre-order davvero gli spremetto un sacco di soldi tra l'altro per tutti coloro che sono appassionati di Fortnite ma non solo ci sono anche le PSN card per ricaricare il proprio conto playstation network quindi per tutti quelli che shoppano skin shoppano fifa points trovate queste cariche le pagate anche a meno rispetto a gamestop o altri posti sapete che sono uno molto selettivo nel fare collaborazioni preferisco farne poche ma buone e soprattutto quando le faccio preferisco che i miei bomberoni possono essere sicuri che il servizio sia sicuro al 100% in questo caso ragazzi risparmiano soldi il servizio è sicuro più dei cosi che vi devo dire però ho iniziato a comprarci anch'io qua sopra continuerò a comprarci qua sopra perchè pago meno il gioco mi arriva anche me lo fa fa di spendere di più se volete qui sotto in descrizione cliccate il link iniziate a scaricarvi la roba e mi raccomando divertitevi detto questo torniamo a noi con questa bellissima foto siamo pronti raga per oggi giuro che massacro a tutti mappa trovata è uscita parco divertimenti tra l'altro se lasciate un botto di like raga sto pensando anche di portarvi cos'ha scritto sto qua ban ban no raga non scherziamo bisogna bannare mi auguro veramente che questo qua non venga ascoltato non ha bannato? ah c'è ha bannato jackal questo ha scritto solo jackal ok? se tu banni sei un gay ma con chi ce l'ha con me? ma sta insultando a me questo? mi sta insultando a me? ma questo qua lo sfondo adesso raga io voto to capi votate tutti ma che si arrabbia oh ma parte già benissimo questo episodio io nel dubbio raga io scrivo su camelù ve devo dire che non l'hanno ascoltato a parte che stanno bannando fiuz perché hanno bannato fiuz? hanno bannato lisio ma why lision? signori allora partiamo ad attaccare noi mi sono beccato bomber ash vi giuro che non succede ma se succede raga io adesso picco nastro perché lo voglio umiliare quello che ma puoi darmi puoi offendere perché la gente banna cioè non è che la gente banna perché è strozza è il gioco che prevede il pick and ban quindi siccome ha beccato una persona sbagliata il bomber è da offendere io adesso raga li massacro tutti uno è già morto bellissimo che poi ne ha bannato completamente a caso ah mi è morto uno dei nostri gg ok ho fatto caveira tanto lo so che c'è c'è sicuramente un altro esterno raga mamma mia il bimbo micchia is back guys vieni qua a mozzarellina vieni qua ok io ho paura che mi venga a piccare qualcuno da qua sotto raga potrei spaccare qua con ash anzi lo faccio immediatamente ma che c'è il diffuser il termite il termite è da un'altra parte aspetta che drono va se questi qua stanno tutti in site o meno perché raga prima di offendere bisogna anche iniziare a capire di che passi sono fatti gli avversari perché se sono forti è meglio se se ne stiamo zitti che non facciamo brutte figure ma guarda che può plantare termite can you plant in bomb please perché non planta termite come on tua nonna quella su diciamo qualcuno qua sento dei passi ma dove cavolo è? ma zio graziello perché non planta? termite porto io non ci posso credere raga io non ci posso guardalo adesso lo voglio guardare ma cosa sta facendo? ma sta usando termite col silenziatore? no raga oddio che squadra c'ho oddio che squadra c'ho mia sorella mentre prende il sole più forte raga è uno scherzo bravo bomber c'è la sinistra perfetto questo qua c'ha le cuffie dei teletubbies primo round non è andato bene meno male che non ho scritto nulla ragazzi vedi sempre viene a aspettare a offendere ve l'ho detto porco demonio termite il pd in realtà vuol dire altro secondo round mi sono ripreso Ash perché lo sapete che su pc lo amo perfetto ho già rotto la cam hanno ancora caveira senza paura però tu nonna io franco è sempre dal bagno ma che tasto c'è su sto account? ah con questo a coltello? oddio ma ci sono altri settaggi bella mamma quanto è forti Ash comunque su pc è una roba assurda ed è che voglio che il tipo mi infenda ancora offendemi ancora fratelli perché ti banno gli operatori offendemi ancora madonna che se ti prendo ti pianto delle sberle che ti spalmano la maionese in bocca oh porca mia adesso ho sbagliato il buco è uno come me che fa trombi di cognome sbagliare il buco non è un vanto oh ma non aveva visto che bot che piccolo bot che c'è qua con me ok siete ble allora zio aspetta un attimo che qua buco e poi questo qua ce lo portiamo a casa mi fa paura l'altro che non so chi sia vai black tu vai da dietro zio noi facciamo più capire nulla questo qua che c'è al defuso ma perché ragazzi tutti quelli che c'hanno il defuso non planta potevamo tranquillamente plantare sulla bomba io gli spacco anche dietro ma dove è andato il bomber è ancora qui braga io lo sento qua a destra è qua è qua che cuffie pazzesche due contro uno buono ok mamma mia che giocatore oh my god guardalo qui ragazzi possiamo iniziare forse a insultare tutti eh quiz gay eh non risponde più il bomber eh se la sta facendo addosso sia chiaro prima che venga fuori il patatrack perché ragazzi qua è un attimo fraintendere nulla contro loro anzi assolutamente per me possono fare quello che più mi piace pare ce l'ho semplicemente con il bomber che mi sta offendendo semplicemente che poi non so se sta offendendo me però io nel dubbio l'ho presa come offesa personale ok picco sempre da qui sei incredibile non hanno ancora capito che picchiamo da sotto 3 round che sta facendo lo stesso identico giro se non sbaglio c'è l'una lì in fondo io tiro una flashbang che c'è dietro di me vai zio vai prima te e infatti si si c'è l'una l'alaga oddio grande zofia che ha pushato come un treno come in bare state lì eh state bocche mo drono io ok c'hanno il mute qua è pulito 5 contro 3 grandi raga questo è morto ma guarda dove è il t ora lo pusho lo stunno ma tua nonna è in calore guarda questo dove stava ti prego zofia vendicami ecco no ora c'è spostata non è più bravissime ragazzi bravissime questi qui non scrivono più ha 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 codardino che non mi ricordo quello che mi avevo offeso chi era di loro perfetto adesso difendiamo noi aver vinto comunque due round in attacco tanta ma tanta roba mi dispiace più che altro che il tipo abbia smesso di scrivere raga perché se andava avanti a offendermi era proprio il fulcro del video del bimbo mickey adventure su rainbow trovare qualcuno che ti offende e rispondergli con la stessa moneta però gli stiamo rispondendo noi sul campo ho voluto beccare l'anno l'ison così cambia anche un po' gli operatori anche se in attacco mi sono beccato solo ascia raga ma mi piacciono un botto quelli molto veloci a muoversi ah guarda il bomb bravo zio ah ci vuole mettere ti becco bella bella mamma da mamma ignorato neanche le peschelle a momenti mi ignorano come trovate qualcuno che vi ignori come il chel oh morco ma da dove l'ho preso questi qua hanno beccato l'egola scali raga stanno piccando da bagno mi sa io me ne vado via ancora i doio ok qua è sempre chiuso sento un sacco di passi non ci capisco niente da dietro non sembra arrivare nessuno voglio stare ma non puoi esterno così testisco bene il tutto raga io sento dei passi qua non capisco se sta sopra o sotto prova a salire c'è qualcuno raga per forza sento un botto di passi è sempre più vicino ma dove cavolo è hanno preso la mia mina sotto oddio mamma mia sono cagato addosso c'è un altro qua ma ma cosa sparo ho riga l'ho filato non ci credo che mi so fatto quest'arma via 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 oddio grazzone puoi solo che farmi il risciacco scemo raga come non ti beccato no vabbè signori oh my god guys where are you from boobies dai che voglio un po' di dialogo ma cos'è metto italiano mezzo inglese I'm from pro player ma che lingua è questa signori allora match point sono riuscito finalmente a estrapolare qualche rispostire stiamo facendo una partita assurda vi giuro che non capisco ma che lingua è questa qua ma non ci capisco niente raga mi sono beccato il toccone do you live in Ireland questo qua non ha capito che io vivo è una città pro player chi? io vediamo se ce la con me se ce la portiamo a casa col 4-1 raga quello che mi ha mamma mia quello che mi ha fatto del gay all'inizio per il ban e prendete chi? metto i piedi in bocca pieni di criccole e lo faccio star zitto ma che partita hanno anche messo bello il mira lì mi piace un botto bravo zio ma come fai? a offendere fratello Ete se avremo comunque da pc spacchiamo eh è qui? è entrato l'ha fatto? ma come sto godendo ma puoi entrare così? ma questo qua era anche piccazzo sai che è passato è passato ce l'uno fuori vabbè 5 contro 2 mamma che team è canno che ho parlato 4 contro 2 vabbò ah io ora mi muovo così la prossima volta il tipo sta zitto e non offende va ha preso le persone sbagliate infatti le sta anche buscando no ferimento non me lo rubare tu no ma ha dato la kill mamma raga ma guarda che ma è MVP no adesso gli scrivo 9 2 who is gay I don't understand rispondi se sei uomo codardo eh c'hai le palline vuoi fare un pesce un pesce con me ma vabbè lì hai preso la persona sbagliata le hai buscate bello muto guarda come quittano signori cosa dire amo tantissimo chi parte in quinta ad offendere poi le busche in game e non risponde più perché ha capito che ha fatto un pestone gigante prima di concludere volevo farvi vedere un piccolo regalo che mi ha mandato ubisoft regà sono fantastici ubisoft a questo giro mi ha mandato il blizzone la stalker docca ebi il bomberone finca cioè guardate come sono belli ora c'è un po' di luce quindi li vedete un po' male infine bomber glaz guardate che roba regare poi un giorno ci faccio un video con tutti loro perché così vi si scatola la luce e il riflesso non è il massimo ci tenevo tuttavia però a ringraziare mamma ubisoft spero come sempre che vi siate divertiti nonna purga a tutti mi raccomando spolliciate iscrivetevi attivate la campanellina noi ci vediamo ad un prossimo episodio a fratello martello sgavelenze un saluto un abbraccione ciao campioni iscrivetevi